Una cara amica degli sposi, un'attrice, una cantante, una presentatrice, una bellissima donna, una star in Russia. Signore e signori, adesso per noi, solo per noi, in questa sera programmatica, accogliamola con un grande applauso, Katrin Moro! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.